Joe Biden si ritira dalla corsa alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti di novembre. In una lettera pubblicata sui social media domenica ha dichiarato che la decisione è nell'interesse del partito e del paese. Nel suo messaggio Biden ha appoggiato la vicepresidente Kamala Harris che sarà dunque la candidata del Partito Democratico contro Donald Trump, il quale ha dichiarato che il desonesto Joe Biden non era adatto a candidarsi alla presidenza. Da tutta Europa i leader hanno reso omaggio a Joe Biden che domenica ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale. Biden ha dichiarato che è stato il più grande onore della sua vita servire come presidente aggiungendo che avrebbe appoggiato la vicepresidente Kamala Harris per sostituirlo. Ha dichiarato anche che nel corso della settimana parlerà alla nazione in modo più dettagliato della sua decisione. Dall'Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato Biden per il suo incrollabile sostegno nei due anni successivi all'invasione russa. Saremo sempre grati alla leadership del presidente Biden ha dichiarato aggiungendo rispettiamo la decisione di oggi dura ma forte. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha elogiato Biden per le sue decisioni difficili che a suo dire hanno reso la Polonia, gli Stati Uniti e il mondo più sicuri. Ha inoltre affermato che la decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale è stata probabilmente la più difficile che Biden abbia dovuto prendere. Dal Regno Unito il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato rispetto alla decisione del presidente e mi auguro di lavorare insieme durante il resto della sua presidenza. Starmer ha detto di sapere che Biden ha preso la sua decisione in base a ciò che ritiene sia meglio per il popolo americano. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invece definito Biden mio amico aggiungendo grazie a lui la cooperazione transatlantica è stretta, la Nato è forte e gli Stati Uniti sono per noi un partner valido e affidabile. La sua decisione di non ricandidarsi merita un riconoscimento. Tutta la mia ammirazione e il mio riconoscimento per la coraggiosa e dignitosa decisione del presidente ha esordito invece il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Un grande gesto da parte di un grande presidente che ha sempre lottato per la libertà e la democrazia ha detto. Il raid aereo israeliano di sabato contro il porto della città di Odeida controllata da Yehuti ha provocato morti e feriti. L'esercito israeliano ha colpito la città dello Yemen con F-35 in risposta all'attacco con drone di venerdì a Tel Aviv rivendicato dal gruppo ribelle che ha provocato la morte di un cinquantenne. Secondo fonti locali a Odeida sono stati colpiti impianti di stoccaggio del petrolio e una centrale elettrica. Un portavoce degli Yehuti ha definito l'attacco di Israele una palese aggressione e ha detto che le forze armate iemenite avrebbero risposto. Il premier israeliano Netanyahu ha detto che Odeida non è un porto innocente aggiungendo che è il principale punto d'ingresso nello Yemen per le armi provenienti dall'Iran, principale finanziatore degli Yehuti. In risposta al raid di sabato gli Yehuti hanno lanciato domenica un missile che Israele ha confermato di aver intercettato con la sua difesa Haro. I ribelli hanno poi rivendicato l'attacco a una nave statunitense nel Mar Rosso. Uno degli eventi più importanti dell'estate ungherese è la traversata del Balaton. Quest'anno la 42esima edizione è iniziata alle 7 di domenica mattina. I partecipanti dovevano iniziare la corsa di 5,2 chilometri a Reffulop fino all'altra sponda di Balaton Boglar. L'evento si sarebbe dovuto svolgere sabato ma è stato rinviato di un giorno a causa del tempo incerto. La temperatura esterna era di 20 gradi celsius al mattino ma l'acqua era tra i 25 e i 27 gradi. Anche se si tratta di una competizione la maggior parte delle persone partecipa per divertimento per gareggiare con se stessa. Chi ha completato la distanza totale ha ricevuto una medaglia a Balaton Boglar. Più di 11.000 persone si sono iscritte all'evento quest'anno. I due uomini più veloci hanno completato il tragitto nello stesso momento in un'ora, un minuto e 54 secondi.